Un giorno, cioè tipo tra pochi giorni, anche domani, mi taglierò i capelli, ve lo prometto Ve lo prometto Ebbè, e siamo tutti ragazzi, sono Loren, ciao E benvenuti, anzi, 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 bentornati ragazzi, bentornati sulla UCN di Five Nights at Freddy's Ok, avevo detto che la UCN l'avrei fatta poco, semplicemente perché non riesco a fare la 50-20 E mi sento male, letteralmente mi sento male, fisicamente, quando la vado a fare Quindi, per il bene del mio corassone e per il bene della mia tette, non la farò Ma oggi faremo qualcosa di più Molto di più Ovvero, le vostre notte Vi ricordate che io avevo chiesto a voi, nei primissimi episodi di questo gioco Di scrivere le vostre notti personalizzate Che poi andavo a fare in un video Bene, è passato un mese ma è ancora valida la cosa, ok? È ancora valida Quindi oggi giocheremo alla UCN di Five Nights at Freddy's con le vostre notti E detto questo, prende il cellulare Perché chissà che cosa mi avete scritto Allora, la prima notte me le envia Sniperfury Che mi scrive Hashtag Lore, fai questa Fai animatronics di FNAF 6, inclusi i Rockstar Spollisci per farlo leggere Ok, tu mi stai dicendo che devo fare solo i animatronics di FNAF 6 Solo Ok, sarà facilissimo Tipo, ci vorrò tre triliardi di volte Ma chi se ne frega Allora, ci abbiamo The Gang Alza il quadratto Poi ci abbiamo il tizio Questi qua dei condotti che non mi interessano niente Sono facili da battere Poi ci abbiamo, no Ci abbiamo tutti i Rockstar Ok, Rockstar Freddy C'è pure DD, no Music Man, scusate Giustamente, molte Mi sembra giusto È questo Poi, il Fongi no Perché lui non fa parte di quella notte Questa è la notte 3600 punti stanotte Che facile Che facile Metto DD perché non ho voglia di essere ammazzata da DD E vediamo che strategia posso utilizzare Allora, basta fare tipo così Basta fare tipo così Basta andare in duct system E mettere quello là E mettere quello là Poi Non si fa Ok, forse ho sbagliato Mi scusi, buon uomo Non mi ricordo più come si gioca a sto gioco Così doveva funzionare Aspetta un attimo Non mi ricordo come si giocava a questo gioco Quali sono gli animatronics da battere Ma non è giusto Rockstar chica Io te l'ho bloccato No, vabbè Ma io non ci credo La notte più facile La vado a perdere Adesso Adesso Ah No, adesso io voglio vedere che cosa succede No, adesso lo riprendo Posso cambiare ufficio? Io cambio ufficio Ma non a questa A dopo, a dopo, a dopo, a dopo No, si fa così tanto Non ci sono Quelli che faccio Ok, ma se tu devi stare ferma là Devi stare ferma là Non si dovrebbe muovere così Perché è bloccata Perché è scema lei Giusto? Ora, posso fare forse una cosa più semplice? Ah Subito Ciao Quanto mi sono andata Porca miseria Qual è il mio challenge Ragazzi, qual è? Io spero che sia ballora Allora Ora C'è un piccolo problemino Perché qua c'è C'è un problemino C'è un piccolo problemino Non riesco a buttare via Rockstar Chica Devo guardare il corridoio A destra e a sinistra A destra e a sinistra Vabbè Allora facciamo così Così lo facciamo veloce Ok? Allora Allora, la prima Lei viene di qua Io stacco così Vado qua Così blocco sti animatroniche E poi andiamo sulla 2 Perché se vado sulla 2 Quelli animatroniche non si muovono Tra cui Rockstar Bonnie Giusto? Stiamo un pochino calmino Non ci so più giocare Ragazzi, giuro Ormai ho perso le speranze Su questo gioco Maledetto Sniper Illics Blablabla Ma se facessi così No No È entrato lo stesso Non ci credo Perché c'è entrato Non doveva entrare Ma smettere di cantare Sei pure stonato Va bene Ok Questa non è la UCN Quindi qualsiasi strategia Io faccia Non va a funzionare Quindi devo tornare Alla strategia normale Ovvero Fallo la cavolo di cani Tanto vincere lo stesso Allora facciamo così Ogni volta che vado ad aprire Le telecamere Utilizzo il 3 E vado A fare le 7 ventilation Perché quanto pare Qua non c'è la strategia Che quelli tipo Ci muoiono Perché sono stupidi idioti Ci siamo Ti prego Easy Deve essere easy Stanotte Non mi interessa Assolutamente nulla Easy Ok L'ora del mattino Siamo già a un minuto Stacchiamo che c'è Music man Dai 1,7 Io mi fido di te Non mi fido di te Non mi fido di te Non mi fido Non mi fido Non mi fido Yes Ragazzi Ormai la strategia ce l'ho Naffan bagno Te la strategia 70 72 73 74 75 76 Ah Calm down Calm down Calm 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 Quello vi prego Se no moriamo qua Calmiamo quello Ok 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 Calmiamolo 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 C'è pure Lefty E dobbiamo calmarlo Se no noi siamo morti Però sono le 2 Del mattino Quasi le 3 Del mattino Ti prego Ora 3 del mattino Non cambiare Resta qua Non cambiare Resta qua Abbassati Abbassati E stacca tutto Ok Stacca tutto Così Oh yes Perfetto Ragazzi Perfetto 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 62% Quattro Del mattino Dai che ce la facciamo Ferma Stacca Stacca tutto Muto Non mi interessa niente Di quello Sono quasi le 4 e 30 Eh 3 Ok Ci siamo Calm down Calm down Calm down Non c'è bisogno Ragazzi Ragazzi Dai che l'abbiamo vinta 30 secondi Quasi 5 il mattino Forza 20 secondi Io non alzo Io non alzo Io non alzo Io non alzo Devo aspettare Devo aspettare solo 9 secondi 2 3 4 5 6 7 8 9 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 8 7 Me la manda il gran gamer youtube che scrive Hashtag Lore fai questo Tutti Foxy Compresi anche Funt and Foxy e Mangol Va bene Tanto lo sentiamo tutti a zero Andiamo a prendere solo le Foxy Quindi lui E ci metteva pure Mangol Così abbiamo qualcuno che ci viene dalle ventole Nightmare Mangol giusto Porca di quella miseria Nightmare Mangol non ci voleva Poi come Foxy abbiamo lui Rockstar Foxy E Funt and Foxy Oddio Funt and Foxy Devo comprarmi il Death Coin Ragazzi Mi serve il Death Coin Ok ci devo provare così Notte solo da mille punti Ma che se ne frega Ma è difficile Quindi vai Diciamo che avere solo Foxy Ma ragazzi ma avere solo Foxy qua non è possibile Perché Foxy c'è sempre Quindi devo controllare sempre lui Cioè non ha senso Cioè non ha senso Perché se c'è Foxy Lui arriva sempre E non saprei come fare Showtime alle 3 del mattino Cioè alle 3 del mattino ci devo andare No ti prego no Ti prego no Ti prego no Ti prego Quindi showtime No ho già perso Forza miseria non ci voleva Ok Allora Potrei fare una cosa del genere Spengo questo Chiudo questo Attivo questo Vado nelle telecamere E vado tra la 5 e la 6 Così Mangle intanto Non dovrebbe arrivare E io posso controllare tranquillamente Tutte le telecamere Showtime Alle 3 del mattino E alle 3 del mattino Ovviamente Io ci devo andare Restiamo sempre gli occhi Su Foxy Perché Foxy È il più pericoloso Essendoci solo lui Se no non lo guardiamo Ogni 5 secondi Rischiamo la muerte Ok La muerte Ok E così una l'abbiamo eliminata Perfetto Così non ci dovrebbero essere problemi Dobbiamo controllare Solo Foxy E Funtime E Funtime Cosa la Mangle Che arriva da destra Da sinistra Da quello che è A fare cambio e scambio Non dovrebbe succedermi niente Perché fa Ok Proviamo così Voglio vedere che succede Però stanno già al 58% di batteria E non va bene questo Quindi accendiamo solo questo E attiviamo solo questo E ti prego Tu non ti muovere Non ti muovere Non ti devi muovere No Foxy Ma il death coin ci si può dare a Foxy No non ci si può dare Proviamo così Mi sono scordato di guardarlo Vabbè Però è fattibile È fattibile Ok è fattibile Fattibile Ti prego è fattibile Ti prego è fattibile Ok Eh Ragazzi abbiamo vinto mi sa eh Abbiamo vinto Non c'è più Apposta abbiamo vinto Forza Forza Provaci Provaci Ma sono cattivo Sono cattivo Ok Tanto tu stai là Foxy Ciao 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 Ok ciao Dai Arrivano queste 4 e 30 Quasi completo pure stanotte Forza 4 e 30 Basta Fine 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 applausi per me Per il video di Fluff Che riesce a completare anche le notti facili Ok ragazzi Io direi che il video di oggi lo posso anche terminare qua Spero tantissimo che vi sia piaciuto E che vi sia piaciuta l'idea di fare le vostre notti Al prossimo episodio ragazzi Voglio tanti commenti qua sotto Su cosa fare la prossima volta Il video di oggi lo posso anche terminare qua Mi raccomando ragazzi Vi invito ad iscrivervi al canale Se non l'avete ancora fatto A lasciare un mega pollice in su 3000 like Prossimo episodio delle vostre notti E di seguirmi pure su Instagram Link del mail è tra lo spavio per occhiali sotto in descrizione E noi ci vediamo Nel prossimo video E Ciao